quest'anno cavallino di cavallini abbiamo questi abbiamo quello lì di cavallo quello lì un cavallino di razza live your life lo sentiamo con l'hype house oggi si comincia lavoro importante ciao bella gatta che fai mi fai da guarda al corpo non c'è mai un tempo per farlo non farlo un video perché il cavallino sta in box deve fare il carboceramico e il carboceramico io potevo anche farlo il carboceramico però se facevo il carboceramico non li davo a quei signori lì che sono soci al 50 52 per cento della tua azienda ma non lavorano che ti dicono un bel giorno senti mei scherò sono venuto a prendere quel mio 52 che poi in maniera in diretta diventa un settantino tu fatti il culo che io prendo un settantino io ti lascio un trentello e tu con l'ostentazione positiva metti avanti la testa io gli dai addosso e dici va bene sono sottopadrone non me ne ero accorto mi ero fatto una società prestata solo ai miei pensavo sì di avere un qualcuno però un a 40 euro in settantello e allora il carboceramico si fa dopo l'estate e secondo te sto male sto una favola allo stereo ce l'ho di cavallini ce ne ho qua pure quanto tanto 120 però insomma ce n'è qualcuno teutonico rosso tempi di crisi ordini un pezzetto che devi tirare su e giù finestrino dopo due mesi ancora non è arrivato sarà cinque euro però mi dista tutta l'estate a dire mamma mia non alzare non abbassare mi sono fatto l'autista silvia escort sempre la preferita la prestazione di livello la guida è quel che l'è 150 metri da mare la casa ma secondo te sto male bella per te viva la vita